Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. Il centrocampista dell'Inter, Akan Kalanoglu, ha respinto con decisione le recenti offerte provenienti dall'Arabia Saudita, affermando con fermezza, sì, è vero, le ho rifiutate. Ho deciso di non andare via perché voglio bene all'Inter. In un'intervista a Sport Mediaset, Kalanoglu ha esaltato la sua scelta e ringraziato il direttore sportivo Ausilio per aver compreso il suo punto di vista. Sono grato ad Ausilio perché capisce la mia posizione. Quando sono arrivate quelle offerte, ho lasciato alla società la decisione finale, ha aggiunto il talentuoso centrocampista. Contrariamente alla percezione diffusa, Kalanoglu ha sottolineato che la sua decisione non è stata guidata esclusivamente da motivi economici. Ha enfatizzato l'importanza di sentirsi cruciale all'interno della squadra, un aspetto che sperimenta appieno con l'Inter. Rivolgendosi ai tifosi del Milan, club di provenienza, che potrebbero disapprovare la sua scelta, Kalanoglu ha dichiarato con un tocco di empatia, ai tifosi rossoneri che dicono che ha fatto male, visto lo scudetto perso nel 2022, auguro il meglio. E dico che con pazienza si vedrà. Guardando al futuro, il centrocampista turco ha condiviso le sue ambizioni per il 2024, focalizzandosi sul desiderio di vincere qualcosa di significativo con l'Inter. Tra le opzioni, Kalanoglu ha chiarito che preferirebbe uno scudetto o una finale di Champions. Sulla questione Juventus e le loro dichiarazioni sul quarto posto, ha risposto con determinazione. La Juve dice che punta al quarto posto? Non ascolto quel che dicono e comunque non guardo le avversarie, penso solo a noi. Con questo, Kalanoglu ha trasmesso chiaramente il suo impegno nei confronti dell'Inter e la sua determinazione a perseguire traguardi importanti con il club nerazzurro.